Si è spento il grande Shunshuke Kikuchi. Kikuchi era, vi ricordo, l'autore delle canzoni, o meglio, delle sigle, delle colonne sonore, di tantissimi cartoni animati come Doraemon, Uforobo, Dragon Ball, L'Uomo Tigre, Goldrake. Si è spento a Tokyo a 89 anni di età per colpa di una grave polmonite che aveva purtroppo riportato. Era nato il primo dio a novembre del 31, si dedicò in maniera completa al mondo della musica, dopo il diploma nel conservo del 53, si specializzò in maniera abbastanza completa nella composizione di importanti colonne sonori per proiezioni cinematografiche ma anche televisive. Un personaggio equilibrato, tutti ne parlano bene di lui in Giappone, era un personaggio davvero straordinario, unico nel suo genere, umile, buono, di carattere e soprattutto mansueto. Iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Shunsuke, Kikushi, che tu possa riposare in pace. Amen.